Banviti in Euro Cup, 7 vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia, insomma è cambiato qualcosa in quel momento della stagione? Ma è cambiato che avevamo bisogno di tempo, una squadra nuova, una squadra che era passata in mezzo a un paio di problematiche relative ad infortuni o a di partita di qualche giocatore nel momento in cui abbiamo trovato un assetto e soprattutto i giocatori che erano già presenti in zona dell'anno hanno necessito a conoscersi come si deve la squadra è venuta fuori per cui penso che facesse parte del normale progetto di Crista che una squadra nuova deve fare durante la stagione Anche il doppio impegno che è venuto a meno avrà pesato un pochino? Ma sì, il doppio impegno è pesato ma diciamo che più che altro da un punto di vista regolamentare nel momento in cui abbiamo fatto l'Euro Cup e c'è stata l'assenza di Brux, dovevamo testare un giocatore entro la fine del giorno dell'andato dell'Euro Cup, quindi dopo tre partite di conseguenza non potevamo fare una roba di fretta ma dovevamo ragionarla, dovevamo studiarla e pur sapendo che abbiamo giocato con un paio di giocatori in meno ma non è stato un problema perché sapevamo che l'obiettivo era cementare il gruppo e poi l'obiettivo era più in avanti Ciò che colpisce soprattutto nelle ultime prestazioni, soprattutto Pesaro e Avellino è quello che la Dinamo riesce a trovare in ogni partita un singolo che riesce poi a trascinare il resto della squadra in ogni partita, questo singolo è diverso Sì, questo è vero, ma penso che la cosa più importante sia la qualità difensiva che stiamo esprimendo nel senso che se abbiamo la capacità di essere così aggressivi con 12 giocatori diversi poi diventa difficile per gli altri far canestro e soprattutto abbiamo la possibilità di sviluppare al meglio il nostro gioco e di rischiare qualcosa a livello di transizione, a livello di prendere i tiri nei primi secondi di gioco che è una cosa che piace molto nella filosofia di Meo, per cui sicuramente abbiamo la possibilità di avere protagonisti diversi però devo dire che ad oggi quello che si è visto nell'ultimo mese, mese e mezzo, è la qualità difensiva che è veramente importante perché devo dire che a partire dalla semifinale, ma anche con Cremona la semifinale con Reggio Emilia abbiamo veramente, da lì abbiamo deciso di perdere con la difesa pur avendoci delle partite, tipo quella con Milano da punteggi alti ma ogni cosa gli avversari si sono dovuti a sudare, quello penso sia il segreto Immagino che il rientro di Brux sia stato molto funzionale a questo discorso difensivo Ma sì, sappiamo quella che è l'importanza di Jeff, sappiamo che è un giocatore che con il suo atletismo è in grado di marcare diversi giocatori, soprattutto ha la capacità di fare da collante tra la pericosità dei tre giocatori sul perimetro e del giocatore che gioca da cinque che può essere un giocatore interno come Laval o un giocatore perimetrale come Cagli sappiamo quello che è il suo valore, abbiamo fatto due mesi e mezzo senza di lui, non ci siamo mai lamentati la crescita di un gruppo secondo me deve andare oltre agli infortuni per cui come non ci siamo lamentati della sua assenza del tempo non ci lamentiamo dell'assenza di Sosa adesso ma guardiamo di andare avanti, di avere sempre la possibilità di averci un gruppo profondo dove tutti sono importanti, dove tutti sono funzionale alla causa e come hai detto giustamente tu ogni volta avremo potuto essere diverso Parliamo di due innesti in corsa, Cagli si è inserito subito molto bene invece qualche problema per Mbogi, state valutando magari la sua posizione in questo momento? No, sono molto contento di Mbogi, sono veramente molto contento perché è un ragazzo che arrivava da Cantù dove non stava giocando da un paio di mesi e soprattutto avevamo bisogno di mettere in campo un giocatore subito perché non c'era molto tempo di poter aspettare perché era una fase dove avevamo delle problematiche a livello di infortuni avevamo delle problematiche a livello di gestione di qualche giocatore per cui una volta in cui c'è stato questo tipo di valutazione mi hanno preso Mbogi lui è cresciutissimo dal punto di vista fisico, ogni giorno sta migliorando io sono molto soddisfatto del suo lavoro, sono convinto che sia un giocatore sicuramente di prospettiva un giocatore che ha un anno e mezzo di palacanestro vera perché prima giocava al college che era molto grande come età per cui diverso il discorso di Cagli perché Cagli è un giocatore che l'anno scorso aveva il contratto garantito con il Cleveland Cavaliers e se hai il contratto garantito con il Cleveland Cavaliers vuol dire che hai un certo tipo di valore si è trovato in una situazione particolare nel mercato dell'anno scorso perché nella fase in cui esci dal contratto di NBA e vuoi passare all'Europa è difficile trovare una classificazione importantissima come magari pensava di averci lui e si è trovato in una realtà di basso livello in Grecia si trattava solo di aspettarlo e fare in modo che tornasse a un livello più giusto per quelle che sono le sue qualità Prossima partita contro Capodorlando non posso non chiederti un parere sul caos che c'è stato a livello arbitrale nella partita contro Peser e su come Capodorlando ha deciso poi di gestire anche mediaticamente questa situazione Ma sai, è difficile, ho visto anch'io le immagini, ho visto il video credo che fosse una partita che avesse dei contenuti importanti dal punto di vista della salvezza era una partita che erano tanti mesi che a Capodorlando magari aspettavano avevano due giocatori nuovi che debuttavano e soprattutto quel finale di partita lascia un po' di strascico perché comunque non ti aspetti mai 40 centesimi alla fine che si possa creare una situazione di tiro sta molto brava Peser perché ha costruito bene l'azione probabilmente Campbell ha sbagliato perché sto fuori troppo in anticipo invece di rimanere dentro l'area tutto quello che viene dopo fa parte di scelte io stimo troppo Capodorlando per poter dire qualcosa valutare da fuori è sempre difficile io voglio bene a Capodorlando, li stimo per cui ci mancherebbe se vuoi dire qualcosa contrario a loro Dopo qualche stagione fortunata a livello della gestione anche dei singoli del roster quest'anno ci sono stati tre casi spinosi Tessitori, Cusin, Todic, come è stato gestirli? e magari a distanza di un po' di tempo vuoi tornarci magari per chiarire un po' quelli che sono stati i contorni di queste separazioni Abbiamo chiarito tutto per tempo non credo che ci sia stato niente di problematico, allucinante penso che sia tutta una roba normalissima per quanto riguarda la Palacanessa nel 2015 per quanto riguarda i regolamenti per cui credo che la cosa importante fosse creare un gruppo nuovo che fosse un gruppo vincente in questo momento è un gruppo che ha vinto due coppe è un gruppo che sta facendo un miracolo sportivo è un gruppo che entusiasma la gente è un gruppo che dà le difficoltà, è venuto fuori molto bene è soprattutto un gruppo che in prospettiva nei prossimi tre mesi può ancora crescere per cui siamo non contenti di più è andato tutto benissimo relativamente a quelle situazioni passate posso ripetere, non ci sono nessun tipo di problema con Tessitori è stata una situazione legata a una condizione fisica nel senso che avevamo bisogno che il giocatore fosse pronto prima della Supercoppa e questa cosa non c'è stata di conseguenza abbiamo fatto delle valutazioni di un certo tipo la situazione di Marco Cusine è una situazione diversa perché Marco Cusine ha firmato per Sassari ma purtroppo aveva bisogno di tanto minutaggio di conseguenza da subito ci ha chiesto la possibilità di andarsene per cui è difficile valutare un giocatore che è rimasto 34 giorni e io ribadisco ci vuole sempre che un giocatore sia estremamente motivato di stare nel tuo gruppo perché se non è motivato può essere il miglior giocatore al mondo ma non è funzionale a meno che non sia Michael Jordan ma Michael Jordan non gioca più palacanesso da qualche anno per quanto riguarda Todic è una situazione ancora diversa perché era un giocatore che l'uscita dall'Eurolega che per lui era una cosa veramente importante l'ha fatto andare un attimino in confusione nel senso che ha preferito prendere altre strade c'era la possibilità così si è verificata di averci un'offerta economicamente più vantaggiosa per il ragazzo per andare a giocare in Turchia e come si è fatto con Cusin non si è esitato un secondo perché io penso che i giocatori importanti fondamentali della Dinamo siano stati fermi a Sassari perché credevano molto in Sassari perché il progetto di Sassari li ha stimolati molto l'esempio che aveva quello di Laval che abbiamo già fatto mille volte relativo alla possibilità di uscita che non ha voluto cavalcare il giocatore in primis penso sempre che per averci il gruppo in un certo modo e per averci l'ospediatore in un certo modo vi vedo la gente che è estremamente contenta chi vede i nostri allenamenti e chi vede le nostre partite si rende conto che in questo momento abbiamo 12 giocatori tutti sulla stessa spartita la stessa lunghezza d'onda per cui tutto quello che c'è stato penso che sia normalissimo penso che ogni squadra l'ha passato nel passato ma anche nel presente con queste regole sarà sempre più normale andare avanti così ripeto sono stati molto fortunati è stata una stagione clamorosa per quanto è andata bene perché quando hai un foglio bianco da riempire e parti punto a capo come abbiamo fatto noi e l'era post-dinner era molto pericolosa siamo solo sicuramente e sicuramente soddisfatti collegandomi a questo discorso ti volevo chiedere quanto è difficile trovare sul mercato soprattutto dei giocatori americani che abbiano voglia di partecipare al mondo dinamo anche oltre l'attività che è strettamente legata al campo immagino che non tutti siano abituati a una realtà di questo tipo ma devo dirti che onestamente tutti sono contenti di venire a Sassari chi va via da Sassari resta in contatto e ci parla un incontro così mi dicono quanto gli manca a Sassari per cui la componente totalitaria è estremamente positiva i giocatori sono ben felici di viverlo ogni volta abbiamo avuto una manifestazione esterna sono stati sempre estremamente felici di farlo è chiaro che è qualcosa di diverso ma è chiaro anche che il vivere a Sassari giocare davanti a quel pubblico vivere questo tipo di realtà è una cosa che va ben oltre ultima domanda l'anno scorso di questi tempi si faceva un gran parlare di Dynamo Lab anche legato a Cagliari ecco un progetto che dovrebbe partire con un anno di ritardo immagino a che punto siamo no il progetto è stato molto l'abbiamo bloccato per un semplice motivo che nel momento in cui la federazione ha deciso di fare la famosa Final Four con le quattro squadre di Serie C e una di queste squadre vinceva noi non vogliamo essere niente di concorrenziale su Cagliari noi vogliamo essere un aiuto non vogliamo essere un qualche cosa che va a minare determinati equilibri per cui nel momento in cui noi abbiamo presentato quel progetto era un progetto in cui credevamo e pensavamo che fosse un qualche cosa per dare la paracadesso di un certo livello a Cagliari nel momento in cui è stata fatta la Final Four e una squadra ha vinto e ha partecipato alla DNB ci siamo fermati come giusto che fosse perché si è avventato una roba concorrenziale non una cosa costruttiva per cui non c'era motivo in quel momento lì di andare a sviluppare un progetto di questo genere pur rimanendo in piedi assolutamente le forme di collaborazione a livello del settore giovanile che sono quelle che fanno veramente la differenza la squadra di Cagliari è ultima quest'anno in DNB potrebbe tornare in auge magari insomma valuterete nuovamente in estate la situazione ma sì ma ne è d'immediato però ritengo che sia importante aprire collaborazione a livello del settore giovanile e lasciare che la DNB faccia innanzitutto come Lega a pallacanestro prendere decisioni su come saranno i prossimi campionati che ancora oggi sono abbastanza nebulose a partire dalla Gold per arrivare alla DNC nel momento in cui verrà deciso tutto e verrà fatta chiarezza c'è apertura ribadendo sempre il fatto che se dobbiamo essere concorrenziali non lo vogliamo assolutamente fare grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti